Buonasera e bentornati a T-Sport, il consueto appuntamento con l'informazione sportiva dedicata alla provincia di Firenze e alla regione toscana, in onda qua sul 96 del digitale terrestre, in onda su Teleiride. Apriamo l'edizione di oggi, primo aprile 2014, con qualcosa che non è uno scherzo. Sì, è vero, oggi è la giornata del famoso pesce d'aprile, ma sicuramente non è uno scherzo per Firenze la storia di Giancarlo Antonioni, grande personaggio della storia della Fiorentina, della squadra viola e numero 10 mai dimenticato dai tifosi di Firenze. Ebbene oggi Giancarlo Antonioni ha compiuto 60 anni, infatti Giancarlo Antonioni che è nato il primo aprile 1954 e che oggi è stato celebrato in questi suoi 60 anni nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Possiamo vedere una foto proprio di Antonioni mentre spenge le 60 candeline per il suo compleanno. Un'occasione molto importante questa per Antonioni perché è stato accolto dalle istituzioni cittadine, non solo, ma soprattutto è stato accolto da tanti amici, da tanti amici legati alla Fiorentina di oggi e di ieri, ma è stato un giorno anche per Giancarlo Antonioni molto particolare perché Dario Nardella ha consegnato proprio all'ex numero 10 Viola le chiavi della città. Leggiamo le parole di Giancarlo Antonioni che ha detto la gente si fida di me, in questo caso Nardella si fida di me, ringrazio tutti. Tra i regali poi ricevuti dalla grande leggenda Viola, anche una maglietta della Fiorentina, una maglia ovviamente della stagione 2013-2014, con invece del classico numero 10 che abbiamo visto sulle spalle di Antonioni per anni, il numero 60, pronto a ricordare questa celebrazione per il sessantesimo, compleanno di una delle leggende della Fiorentina e di Fiorentina, soprattutto anche di questa giornata così importante per uno dei suoi idoli, parleremo abbondantemente nel corso della nostra puntata di Viola Express, vi ricordo l'orario 21.20 in studio Erika Calvani con tanti ospiti, tanti servizi, appunto tante notizie che arrivano direttamente da Palazzo Vecchio dove Giancarlo Antonioni oggi ha celebrato i suoi 60 anni. Passiamo adesso avanti perché dobbiamo dare notizia di una Firenze sportiva, sempre più sportiva, infatti non è solo la giornata di Giancarlo Antonioni questa, ma è una settimana particolarmente importante per Firenze a livello sportivo, infatti arriva nel fine settimana la Final Four dell'Entrophy, uno dei più prestigiosi tornei internazionali di pallannuoto e coinvolta proprio in questa iniziativa ci sarà anche una formazione fiorentina, si tratta dell'NGM, scusate. Quindi sicuramente un'occasione per vedere da vicino alla piscina Bella Riva i mostri sacri della pallannuoto, dunque noi andiamo a vederci il servizio per capire orari, squadre impegnate e la reazione di Firenze. Venerdì 4 e sabato 5 aprile alla piscina di Bella Riva di Firenze arriva lo spettacolo della grande pallannuoto. A Campodi Marte infatti si disputerà la Final Four dell'Entrophy, un evento di grande respiro europeo e mondiale. A dichiararsi soddisfatto in particolar modo è Eugenio Gianni, presidente del CONI provinciale. Siamo felicissimi di poter ospitare di nuovo a Firenze un evento del calibro della Final Four dell'Entrophy di pallannuoto, uno sport dove la città sempre eccelso riesce, anche questa volta, a dare lustro al nome di Firenze. Ovviamente entusiasta dell'evento anche il direttore organizzativo Riccardo Tempestini, ex allenatore di Rarinantes, Florenzia e Pro Recco. Devo ringraziare la NGM Firenze Pallannuoto e tutte le società presenti, che non appena uscito dall'esperienza con il Recco mi hanno chiesto di aiutarli nell'organizzazione di questo grande evento. Le prossime Final Four avranno un livello tecnico altissimo. La NGM, a causa dei tanti infortuni che sta patendo, forse non riuscirà ad essere all'altezza delle grandissime squadre presenti. Tuttavia siamo sicuri che metterà in acqua tutta la grinta e la decisione possibile. Davanti avremo squadre piene di giocatrici che giocano nelle rispettive nazionali. Il Kinef Kirishi, per esempio, è una squadra che vince da dieci anni consecutivi il proprio campionato. È dunque una squadra che possiamo annoverare tra le migliori in assoluto in tutto il panorama mondiale. Oltre ai protagonisti già citati erano presenti alla presentazione ufficiale tutti gli altri presidenti delle società coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Anche il vice sindaco del Comune di Firenze, Dario Nardella, ha voluto fare un saluto di persona a tutti i componenti dello staff. Un augurio che tutta la Firenze team spera che possa essere di buon auspicio per le gare. Protagoniste dell'evento saranno le NGM Firenze Water Polo, due squadre russe, il Kinef Kirishi, favorita alla Vigilia, e l'Ugracani Manzisk, e le greche dell'Olimpia Cos Pireo. Si parte venerdì 4 alle 18 con la semifinale tra Olimpia Cos e Kirishi, a seguire alle 19.30 NGM contro Ugra. Sabato 5 alle 18 la finale per il terzo posto e alle 19.45 la finalissima. E dunque questo fine settimana importante per la palla a nuoto. Notizie importanti però arrivano anche dal rugby, perché si disputeranno quest'anno gli europei FIRA Under 18, si disputeranno in Polonia a Poznan, e sarà l'11 aprile la data di partenza di questa manifestazione. L'11 aprile vedrà scendere in campo tante formazioni under 18 del rugby continentale, non solo, e vedrà scendere in campo anche dei giocatori che fanno parte di squadre ferentine. Infatti Massimo Brunello, responsabile tecnico della nazionale italiana Under 18, ha convocato il flanker fiorentino Niccolò Broglia della Firenze Rugby 1931 per partecipare a questa manifestazione. Qui intanto vediamo nelle immagini di copertura proprio una delle maglie azzurre indossate da Niccolò Broglia in una precedente occasione. Pensate a Niccolò Broglia che ha frequentato l'Accademia Federale Zonale Sebastiani a Roma e attualmente invece è membro dell'Accademia Federale Zonale di Prato e ha indossato anche la maglia azzurra, come vediamo, con la nazionale Under 18. Non c'è però solo un convocato del Firenze Rugby 1931, Firenze Rugby 1931 che fa parte del campionato di Serie A1, ma c'è un convocato anche dalla Serie A2 tra i giocatori fiorentini, si tratta di Leonardo Mantelli del Cavalesto Rugby, la squadra appunto di Prato e Sesto Fiorentino, che è stato convocato proprio da Massimo Brunello in vista di questa importante vetrina, di questa importante rassegna che vedrà appunto l'Italia impegnata in Polonia per gli europei Under 18, l'Italia Under 18 si radunerà a Mogliano Veneto in provincia di Treviso domenica 6 aprile e la partenza per la Polonia invece è prevista per il prossimo martedì, martedì 8, in vista di un debutto non certo semplice perché gli italiani affronteranno una nobile nazione del rugby come la Francia. Lasciamo adesso lo spazio che abbiamo dedicato al rugby, ci torneremo sicuramente con tante novità non solo sui campionati che seguiamo dall'eccellenza alla Serie A2, ma anche con magari qualche notizia importante per quanto riguarda la nostra nazionale Under 18, come detto. Ma andiamo adesso a parlare di motori e in particolar modo di un premio che è stato consegnato a Firenze, si tratta infatti del Giglio da Corsa 2013 che ha visto premiati numerosi appartenenti al movimento dell'automobilismo fiorentino, i riconoscimenti che l'Automobile Club Firenze ha segnato sono stati molti in varie categorie, una festa dello sport questa del Giglio da Corsa, vediamo intanto insomma l'impressione alcune delle immagini della premiazione, delle varie premiazioni presenti per questa serata erano Paolo Poli, amministratore delegato di Mugello Circuit e anche il presidente dell'Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, il presidente dell'Automobile Club Firenze, Massimo Ruffilli, il direttore della Ferrari Driver Academy Luca Baldisseri, il delegato provinciale del CONI Eugenio Gianni e il direttore di Autosprint Alberto Sabatini. Tra i premiati dicevamo alcuni fiorentini e addirittura anche dei mugellani, infatti premiati due piloti senior diciamo, che sono Max Mugelli per i suoi risultati nella categoria delle auto moderne, nella velocità in circuito ma con auto moderne, e poi Niccolò Mercatali che invece è giunto terzo ma sempre nella categoria di Max Mugelli. Poi premiato un giovanissimo nella categoria junior, fa molto piacere parlare di questo ragazzo perché è veramente molto giovane ma molto promettente, nella categoria junior, infatti premiato Lapo Nencetti, giovanissimo pilota di kart barberinese di Barberino di Mugello che si sta affermando sempre più grazie appunto alle sue duoti e al suo talento. Quindi questo quanto riguarda il Giglio da Corsa 2013, un premio che ovviamente fa riferimento alla stagione sportiva appena conclusa, vedremo se magari in un prossimo futuro ragazzi veloci come appunto Lapo Nencetti potranno magari passare dalla categoria junior, chissà, quella under 25 o addirittura quella senior, per essere premiati magari per qualche grande risultato. Adesso lasciamo anche il mondo dei motori, andiamo invece a parlare della Gastone Nencini, una squadra di ciclismo che porta sicuramente un nome molto importante perché appunto è il nome di uno dei più grandi ciclisti della storia di Toscana, Gastone Nencini vincitore di Giro d'Italia e Tour de France, uno dei pochi corridori in grado di raggiungere tale impresa. Ebbene, a Barberino verrà presentata questa domenica, domenica 6 aprile 2014, alle ore 17 in Palazzo Pretorio, in Piazza Cavour, la squadra per questa stagione sportiva 2014-2015, sarà presente ovviamente una delegazione di tutte le varie squadre in cui si impegna la Gastone Nencini, quindi giovanissimi, bambini che vestiranno i colori sociali della squadra, che non a caso sono appunto il giallo del Tour de France e il rosa del Giro d'Italia. Appunto alle ore 17 in Palazzo Pretorio ci sarà la possibilità di vedere da vicino questi giovani rampanti del ciclismo toscano, fiorentino e mugellano. Tutti gli sportivi e la cittadinanza sono ovviamente invitati e ovviamente tutte le attività della Gastone Nencini verranno illustrate durante questa manifestazione che fa da apertura alla stagione sportiva. Intanto un'ultima veramente notizia, dato che siamo in chiusura, si parla di basket e si parla di un'iniziativa benefica, infatti nel corso di Ennegan Firenze, a Sigeco Casal Pusterlengo, di domenica 6 aprile 2014, la palla 2 sarà alzata alle ore 18, il Mandela Forum si tingerà di blu per dare risalto all'importanza dell'assistenza per i pazienti affetti da fibrosi cistica e alla conoscenza della podologia come migliore forma di prevenzione. Quindi questa è un'iniziativa voluta dalla Lega Basket, dalla nuova Lega Palla Canestro, che porterà a dar conoscenza durante la partita di basket di DNA Silver di questo problema di salute. Con questo abbiamo veramente concluso, ovviamente come detto l'appuntamento, è tra pochissimo con il nostro studio di Viola Express, in studio Erika Calvani ad aspettarvi, ma non solo, anche tante tematiche legate al mondo della Fiorentina. Arrivederci. Grazie a tutti.